Vuoi fare delle foto? Postala! Ancora un altro drink! Oh, guarda, guarda, oddio! Lora! Oh, ragazzi, che si dice? E avete poi comprati i biglietti come vi ho chiesto due settimane fa? No, quali sono? In balconata o in prima fila? Ehi, Mitsu, chi è il tuo amico? Ma chi è? Ho cercato di buttarlo fuori Non possiamo liberarcene? Non lo so, ma è qui dall'inizio Scommetto che è solo un glitch Beh, il glitch ha scritto un messaggio Chi dite che può essere? Questo è l'account di Lora Chi ha che era l'account di una morta? Potrebbe essere Lora Avanti, ora alziamo tutti le mani Chi è il genio? Oh, mio Dio Dai, ragazzi, chi ha postato il video? Non sono stato io Beh, uno di noi è stato Chi c'è? Chiudi la porta! Chiudi la porta! Nasconditi! Perché mandi questo video? Io non volevo, lo giuro Oh, ma giuri! Ma che sta succedendo? Cosa fa? Candy qualcosa! Oh, mio Dio! Ken! Ken! Ehi! Guarda! Io stacco! No, 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 no! Ti ucciderai! Ho una pistola, mi senti? Perché sta contando? No! Si sarà da divertirsi Ciao! La Marvel ha finalmente ufficializzato il passaggio di consegne tra Josh Whedon e i fratelli russo che dopo Captain America The Winter Soldier e il prossimo Captain America Civil War metteranno la firma anche sul terzo crossover della saga Avengers Infinity War La sceneggiatura è stata affidata a Christopher Marcus e Stephen McFeely La pellicola verrà prodotta ancora una volta da Kevin Fidge Questo sarà il primo film dell'universo Marvel ad essere diviso in due parti che usciranno in sala rispettivamente il 4 maggio 2018 e il 3 maggio 2019 Che ne pensate voi delle regie dei fratelli russo? Vi piacciono? Siete contenti di questa scelta? Fatemi sapere e grazie per averci seguito Grazie per averci seguito